Io non voglio rovinare una giornata piena di emozioni, straordinaria, carica di fascino sportivo e di soddisfazioni per la nostra città nel vincere 8 a 7 ai rigori in modo così rocambolesco, la partita sembrava persa. Sono felicissimo come napoletano, come tifoso del Napoli, come sindaco di Napoli, quindi questa bellissima pagina non può essere rovinata né da qualche episodio di molenza né da qualche atteggiamento infondato e rancoroso dello stesso presidente del Napoli. Quindi io dedico questa vittoria da sindaco di Napoli a tutti i napoletani e soprattutto alla squadra e a Benitez che ci hanno regalato una grandissima serata di gioia e di festa per aver sconfitto la Juventus che è una delle squadre oggettivamente più forti.